Un gesto che sia piccolo, racchiude in sé, significati moltipli, che sia anche un gesto nobile o anche romantico. Se si nasconde c'è sempre un motivo, non sempre candido, la perversione sta lì dietro un bivio. Esiste una ragione per ogni piccolo gesto, c'è una motivazione, galanterio o perversione, ognuno è diverso. Dovresti capire il motivo che spinge te stesso, alla ricerca del sesso. Patetico anche sul dolore, vizioso innamorato, a volte diventa persino malato, il bisogno, c'è una mancanza che da dentro lo spinge a dargli un altro senso. Esiste una ragione per ogni piccolo gesto, c'è una motivazione, galanterio o perversione, ognuno è diverso. Dovresti capire il motivo che spinge te stesso, alla ricerca del sesso. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.